Buona giornata, ben ritrovati in diretta con l'informazione di Udinews TV, edizione che apriamo andando subito a Roma perché? Perché Giuseppe Conte ha ricevuto l'incarico di Presidente del Consiglio dal Presidente della Repubblica Mattarella, proprio negli ultimi minuti Conte che è arrivato al Quirinale alle 9.30 sta parlando in diretta dal Quirinale, allora andiamo ad ascoltare le sue parole. Buongiorno a tutti. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ringrazio, mi ha conferito l'incarico di formare il Governo, incarico che ho accettato con riserva. Oggi stesso avvierò le consultazioni con tutti i gruppi parlamentari e all'esito di questo confronto mi dedicherò a elaborare un programma insieme alle forze politiche che hanno spresso il loro sostegno a favore di questo nuovo progetto politico e che desidero sin d'ora qui ringraziare. È una fase molto delicata per il Paese. Dobbiamo uscire al più presto dall'incertezza politica innescata dalla crisi di governo. Stiamo attraversando una congiuntura economica che presenta alcune criticità. L'economia globale, soprattutto in Europa, sta rallentando anche per effetto delle tensioni commerciali in atto, in particolare tra Stati Uniti e Cina. Ci separano poche settimane dall'inizio della sessione di bilancio. Dobbiamo metterci subito all'opera per definire una manovra economica che contrasti l'aumento dell'IVA, che tuteli i risparmiatori, che offra una solida prospettiva di crescita, una solida prospettiva di sviluppo sociale. Siamo agli albori di una nuova legislatura europea e dobbiamo recuperare il tempo si qui perduto per consentire all'Italia, al Paese fondatore dell'Europa, il risvolgere un ruolo da protagonista, il ruolo che merita. Dobbiamo adoperarci per trasformare questo momento di crisi in opportunità, in occasione di rilancio. Il Paese ha l'esigenza di procedere speditamente. E con questa consapevolezza, che mi confronterò con le forze politiche che si sono dichiarate disponibili a sostenere il nuovo progetto, preciso subito che non sarà un governo contro. Sarà un governo per il bene dei cittadini, per modernizzare il Paese, per rendere la nostra nazione ancora più competitiva nel contesto internazionale, ma anche più giusta, più solidale, più inclusiva. Realizzerò un governo... Allora avete sentito il passaggio iniziale dell'intervento di Conte, che ha accettato l'incarico con la consueta formula di prassi della riserva. Avvierà già oggi, ha annunciato le consultazioni con i movimenti e le forze politiche che lo sosterranno, ovvero Movimento 5 Stelle e PD, e dunque poi si aprirà il nuovo iter per l'ottenimento della fiducia con i vari passaggi previsti alla Camera e al Senato. Abbiamo in collegamento in diretta al telefono con noi Deborah Serracchiani, deputata del PD, vicepresidente dell'Assemblea del Partito Democratico da Roma, che ha seguito naturalmente tutto l'evolversi di questa crisi e poi le trattative per la formazione del nuovo governo. Buongiorno Serracchiani. Buongiorno, buongiorno a voi. Ho sentito anche lei poco fa le prime parole di Conte, dunque la manovra, la priorità di questo nuovo governo. Beh, assolutamente sì, devo dire che ho avuto la possibilità di seguire le trattative veramente molto da vicino, anche perché appunto in qualità di vicepresidente del Partito Democratico faccio parte della cosiddetta cabina di regia che si è data il partito proprio per offrire a questa iniziativa politica la forza dell'iniziativa politica condivisa. Quindi abbiamo lavorato molto con il Movimento 5 Stelle sul programma e non è stato facile chiudere, diciamo così, sulla proposta del Presidente Conte. Avremmo preferito una discontinuità, come abbiamo detto fin dall'inizio, ma devo dire che si sono create le condizioni perché si possa partire con il Presidente incaricato ad un ragionamento molto intelligente e anche molto interessante. Devo dire che le sue prime parole vanno in questa direzione, riconosce la necessità di un accordo politico, di superare il tema del contratto e riconosce anche quelle che sono le esigenze ormai stringenti del Paese, cioè il fatto di fare una manovra di bilancio ormai alle porte. Serracchiani, una trattativa complicata con il Partito Democratico, con il suo segretario Zingaretti che l'ha condotta in prima persona, avendo proprio ricevuto da voi il mandato. Da parte del Partito Democratico quali saranno i temi principali, oltre naturalmente a quello della manovra, che porterete all'agenda? Intanto abbiamo sicuramente fatto un focus importante sull'Europa. Noi stiamo rischiando molto, siamo isolati anche per come è stata gestita fin qui la partita dell'inizio legislatura, quindi sarà necessario indicare quanto prima il nome del Commissario europeo, ma soprattutto sarà necessario andare a trattare con l'Europa, anche perché la manovra di bilancio dovrà comunque avere una sua capacità espansiva. Siamo d'accordo, e questo è un punto fondamentale del programma che stiamo cercando di condividere, che è necessario tagliare il costo del lavoro. E su questo credo che le due forze politiche, ma tutti quelli che vorranno dare una mano, insomma, anche perché la coalizione si sta giorno dopo giorno allargando, è appunto opportuno che ci sia anche un'Europa che capisca quanto è importante agire sulla tassazione sul lavoro. Ovviamente per mettere più soldi in tasca ai lavoratori e far pagare di meno il lavoro alle imprese. Grazie, sappiamo che deve scappare ancora incontri in agenda per Deborah Serracchiani. Grazie e buon lavoro. Grazie, grazie anche a voi. Entriamo e continuiamo a parlare della pagina politica perché naturalmente con Conte che ha accettato l'incarico con riserva, ora si apre anche la trattativa sui nomi dei vari ministri che comporranno questo Conte B. Se allora è già partito naturalmente il Toto Ministri, dalle voci, dai rumors che si raccolgono dalla capitale escono le possibili indicazioni di Andrea Orlando proprio per il Partito Democratico. Dario Franceschini per Di Maio si continua a ipotizzare una soluzione che comunque non sembra un'umiliazione. Si era parlato della difesa ma questo per i 5 Stelle significherebbe rinunciare ad un ministro che ha avuto visibilità come l'Elisabetta Trenta. In questa partita ieri è piombata anche l'esternazione di Beppe Grillo che ha chiamato diciamo all'indicazione di ministeri e ministri competenti al di fuori della politica. Su Di Maio proprio alla difesa ci sarebbero resistenze allora potrebbe restare allo sviluppo economico ma in alternativa in quel di Castero si fa il nome di Paola De Micheli del PD. Le altre possibili nomine per gli esteri si guarda a Gentiloni, per gli interni i nomi spendibili sono quelli di Marco Minniti se sarà un tecnico l'ipotesi del prefetto Mario Morcone e del capo della polizia Gabrielli. Poi tra i più vicini a Matteo Renzi rimbalzano i nomi di Andrea Marcucci, Anna Ascani. Per la giustizia c'è ancora incertezza, in ballo lo stesso Orlando l'ex presidente del Senato Pietro Grasso ma anche forte la possibile conferma del grillino Bonafede. Per le pari opportunità i nomi sono quelli di Monica Cirina e Tommaso Cerno il deputato del PD di Udine mai eletto a Milano. Per la sanità si continua a ipotizzare anche il nome di Giulia Grillo, ministro uscente e poi un incarico potrebbe essere affidato anche all'ex governatore dell'Emilia Romagna Vasco Errani. La possibilità è quella degli affari regionali. Tra i 5 Stelle sembra certo che diventerà ministro il capogruppo al Senato Stefano Patuanelli eletto proprio in Friuli Venezia Giulia con il Movimento 5 Stelle per il quale si parla delle infrastrutture. In alternativa c'è l'ipotesi del Rio del Partito Democratico e quindi la nostra regione potrebbe riavere un ministro nel governo dopo addirittura oltre 20 anni. Vedremo come si evolverà quest'oggi proprio la trattativa e naturalmente l'incontro con Conte e le varie rappresentanze dei partiti che lo andranno a sostenere nell'ottenimento della fiducia alla Camera e al Senato. Continueremo naturalmente a raccontarvi e aggiornarvi sulle evoluzioni. Rimaniamo con uno sguardo sui principali fatti accaduti in Italia e nel mondo con le flash news dell'Ansa. Chiediamo allo Spirito Santo la forza di non spaventarci davanti a chi ci comanda di tacere, ci calunnia e addirittura attenta alla nostra vita. Lo ha detto il Papa nell'udienza generale. Il Pontefice, proseguendo le catechesi sugli atti degli Apostoli, ha ricordato poi a proposito l'insegnamento di Pietro. Io obbedisco a Dio prima che agli uomini e questa è la grande risposta cristiana, ha sottolineato Papa Francesco. Intanto in Cina è stato ordinato un nuovo vescovo in scia dell'accordo provvisorio tra la Santa Sede e la Repubblica Popolare Cinese, firmato a Pechino il 22 settembre del 2018. Comandato pontificio, Monsignor Stefano Xu Hongwei è stato consacrato vescovo coadiutore di Hangzhou. Tutto si è svolto in un'atmosfera solenne e partecipata alla presenza di tutti i vescovi della provincia di Shanxi e riferisce il portale della Santa Sede. Ci invita ad essere uniti spiritualmente a tutti i fedeli cattolici che vivono in Cina. Tornando all'udienza generale, Papa Francesco ha anche lanciato un appello a pregare tutti per la pace affinché non si ripetano più le tragiche vicende provocate dall'odio che portano solo distruzione, sofferenze e morte. Lo ha detto ricordando che il primo settembre cade l'ottantesimo anniversario dell'inizio della seconda guerra mondiale avviata con l'aggressione nazista tedesca sulla Polonia. Ha raggiunto oltre un milione di firme la petizione contro la sospensione del Parlamento lanciata dopo l'iniziativa del premier Boris Johnson e approvata dalla regina Elisabetta. L'istanza chiede che non sia sospeso o sciolto a meno che e fino a quando il periodo dell'articolo 50 non sia stato sufficientemente esteso, in riferimento alla parte del Trattato di Lisbona sulle modalità con cui un paese può lasciare l'Unione Europea, oppure finché l'intenzione del Regno Unito di ritirarsi dall'UE sia stata annullata. Il leader laburista Corbyn ha invece avanzato da richiesta di un incontro urgente per contrastare quella del governo di evitare un dibattito sulla Brexit. Si infiamma la battaglia tecnologica tra Stati Uniti e Cina, capitolo importante della guerra commerciale tra le due superpotenze economiche. Oltre a Huawei, nel mirino di Washington è infatti finito l'ambizioso progetto per l'installazione di un cavo sottomarino per i dati tra i due paesi. Un progetto che l'amministrazione Trump minaccia di bloccare sulla base di timori per la sicurezza nazionale. Il Pacific Light è un'iniziativa di Google, Facebook e della cinese Dr. Peng Telecom Media Group. Una sua eventuale bocciatura, riporta il Wall Street Journal, sarebbe la prima nella storia americana sulla base della sicurezza nazionale e segnalerebbe un irrigidimento delle autorità verso progetti riguardanti la Cina o comunque con partner cinesi. A preoccupare Washington è il fatto che Dr. Peng, il quarto maggiore operatore di telecomunicazioni del Dragone, abbia legami con il governo cinese e con Huawei, segnalata sul sito della società come partner. Sul possibile blocco del progetto peserebbero poi anche le tensioni a Hong Kong, dove da mesi si susseguono manifestazioni di piazza per protestare contro le ingerenze di Pechino. I sostenitori dell'iniziativa ritengono invece che il nuovo cavo consentirebbe agli Stati Uniti un maggiore controllo sul flusso dei dati, visto che le autorità potrebbero costringere le aziende ad accettare alcune condizioni per proteggere la sicurezza. E continuiamo con uno sguardo internazionale perché è arrivata a New York Greta Thunberg, l'attivista, la giovane attivista svedese che si è impegnata nella creazione dei cosiddetti Friday for Future e è partita in barcavela dall'Inghilterra, è arrivata a largo di Coney Island per le pratiche doganali e quindi poi sono entrati a New York. Ha avvisato il mondo con un tweet, Malizia 2 è arrivata appunto nell'isola, nella penisola, situata nella zona meridionale di Brooklyn, vedete proprio le immagini dell'arrivo. Perché? Perché Greta sarà protagonista del summit dell'ONU sulla clima. A dare il benvenuto alla giovane, i vartici delle Nazioni Unite con una piccola flotta di 17 barche a vela che hanno appunto incontrato Greta nei pressi del Ponte Giovanni da Verrazzano. Greta sta compiendo questo viaggio a zero emissioni dal Regno Unito a New York per il summit che si trarà il 23 settembre prossimo. Il viaggio transatlantico è iniziato dal porto di Plymouth nel sud dell'Inghilterra il 14 agosto con lei sulla nave messa a disposizione Pier Casiraghi, principe di Monaco, figlio di Carolina e del campione di offshore Stefano Casiraghi nei giorni scorsi. Le condizioni meteo avevano costretto Malizia a rallentare, ora appunto l'arrivo a New York e vedete le prime immagini, anche le prime dichiarazioni di Greta Thunberg all'arrivo nella Grande Mela. Una notizia di cronaca che ci arriva da Trieste la scorsa notte. I gnoti hanno cercato di scassinare il distributore di generi alimentari posto all'esterno di una rivendita di tabacchi in via di Prosecco. Non essendoci riusciti hanno infranto una telecamera di videosorveglianza e si sono allontanati a bordo di alcune biciclette. Il personale della squadra volante della questura si è recato ieri mattina sul posto e ha rinvenuto un martello rotto. Sono in corso le indagini da parte della questura di Trieste. A proposito di ultime notizie, c'è stata una scossa di terremoto di magnitudo 2.5 sulla scala Richter alle 10.54 con epicentro a Bordano, nella pedemontana friulana. La profondità è stata registrata a 9.6 km. La scossa sarebbe stata avvertita nei comuni limitrofi, oltre a Bordano e la pedemontana gemonese e del collinare, oltre che della conca Tolmezina. Al momento non si segnalano danni a persone o cose, naturalmente in corso di accertamento da parte della protezione civile, come al solito, eventuali ripercussioni e naturalmente ulteriori aggiornamenti ve li daremo nel corso del nostro notiziario. Siamo pronti ora a trasferirci in regione con la nostra Luciana Idelfonso. Perché? Perché stamattina c'era un importante vertice tra l'assessore regionale all'attività produttiva Bini e i sindacati sul futuro del mondo occupazionale in regione e sulle norme dedicate al mondo delle imprese. A te Luciana, ben ritrovata. Buongiorno. Sì, buongiorno anche a voi. Sono proprio un compagnia di Franco Colauti, segretario del generale della CISLATO Friuli, per capire che cosa è emerso da questo incontro, che cosa vi sembra di questo progetto della regione, dove si può migliorare e cosa invece è stato fatto già bene. Sicuramente l'approccio è condivisibile. Questa richiesta, tra virgolette, della regione di fornire un contributo alla costruzione di un percorso è una cosa indubbiamente positiva. I temi sono tantissimi. Noi come CISL avevamo segnalato poco tempo fa il permanere e il perdurare di diverse crisi, almeno nelle imprese sindacalizzate, che vuol dire che ce ne sono altre che non conosciamo, e la necessità di mettere in campo strumenti di sistema che affrontano la crisi, sia nell'impresa in causa, ma anche accompagnando ovviamente il sistema produttivo nel suo complesso. Pensiamo alle ricollocazioni, al tema della formazione e così via. Sono temi interessantissimi, quello del welfare, il ruolo dei consorzi, c'è il tema dell'energia, dell'uso del suolo. Io credo che questa regione possa fare bene, noi come organizzazioni sindacali non ci sottrarremo dal dare il nostro contributo, c'è stato richiesto, lo forniremo più che volentieri e poi staremo a vedere, perché noi test in mano oggi non li abbiamo avuti, è un lavoro in costruzione, quindi aspettiamo anche poi di vedere quale sarà l'iter di questo progetto, che condividiamo nella visione di sistema, questo sì è una cosa molto interessante. Condividiamo anche il fatto che l'assessore ci ha spiegato che non intende gettare via il passato, quanto di buono nel passato si è fatto, rilancia impresa, ha rappresentato un cambiamento qualche tempo fa, cerchiamo di proseguire su questa strada. Tante le tematiche trattate nel documento che verrà tra l'altro approvato a ottobre, quindi il tempo inizia un po' a scarseggiare, si pensa soprattutto all'occupazione, ma anche alla rivalutazione di quelle aree dismesse ormai, tipo nella zona del Monfalconese, di Manzano, fortemente colpite. Come sindacati anche questo secondo voi può dare nuovi impulsi? Sicuramente uno dei problemi che ha questa regione, ma credo tutti i territori, è l'attrattività. Noi dobbiamo diventare interessanti per imprese che intendono venire e insediarsi qui. Quindi vuol dire avere una visione di qual è il progetto produttivo, il sistema, le energie rinnovabili, il tema delle nuove produzioni ecosostenibili. C'è il tema del porto di Trieste, che è un'opportunità enorme, su cui bisogna ragionare in termini di retroporto. La regione può essere un utile e interessante retroporto di un sistema in crescita, perché è in crescita costante. Quindi ci sono cose su cui lavorare e credo anche interessanti. E allora, con queste parole concludiamo questo collegamento. Più tardi, ovviamente, nelle prossime edizioni del telegiornale, altre voci in merito a questo nuovo provvedimento. A voi. Grazie, grazie alla nostra Luciana Edelfonso e a Franco Colauti della Cisle FVG. Continuiamo a parlare di politica regionale di sanità in particolare, perché il cantiere del nuovo ospedale di Pordenone è operativo a metà. Sono sospesi i lavori dopo la richiesta di concordato della ditta polese di Sacile. L'assessore Riccardi afferma che i lavori rispetteranno però la tabella di marcia. Daniele Boltin. I lavori per la costruzione del nuovo ospedale di Pordenone proseguono rispettando la tabella di marcia. La conferma è arrivata dall'assessore regionale della sanità Riccardo Riccardi, in un'estate piuttosto turbolenta per il cantiere. Da un lato, i festeggiamenti, quando la costruzione è arrivata al tetto e da quel momento sventola, come da tradizione, la bandiera italiana in cima a fabbricato. Dall'altro, le vicende legali che hanno coinvolto una delle due ditte che hanno l'appalto per la costruzione, la polese di Sacile, che ha fatto richiesta di concordato in seguito a una grave crisi finanziaria. L'azienda, che ha in mano i lavori per costruire la cittadella della salute, ha 45 dipendenti e non è più riuscita a far fronte agli impegni compresi subappalti per il cantiere. Una situazione che ha portato alla sospensione dei lavori per la costruzione di questa parte della struttura su decisione del Tribunale di Pordenone. A breve si dovrebbe ripartire e l'appalto passerà nelle mani della cooperativa CMB di Carpi, che è già titolare dell'appalto per realizzare il corpo principale dell'ospedale. Riccardi ha voluto vedere di persona l'avanzamento dei lavori e ha quindi sottolineato che resta confermata l'ultimazione delle opere entro la fine del 2021, mentre l'operatività del nuovo Santa Maria degli Angeli partirà dalla fine del 2022. A proposito del Vice Governatore e Assessore della Sanità Riccardi, ieri c'è stato un incontro importante con i Presidenti degli Ordini dei Medici del Friuli Venezia Giulia, c'è stata piena intesa con i Presidenti degli Ordini, ha detto Riccardi, sull'impostazione delle linee di lavoro da adottare per la pianificazione in corso. Un quadro strategico, ma soprattutto temi puntuali, la cui soluzione possa incidere sul sistema, portando l'evidenza del miglioramento. Accanto a questo c'è stata anche piena concordanza, dice ancora Riccardi, sul fatto che la corretta informazione e una giusta educazione del cittadino all'utilizzo dei servizi sanitari possano anche se contribuire al miglioramento della percezione della reale qualità del sistema. Tra i punti trattati è anche il rapporto diretto con i cittadini, la soluzione del sovraffollamento del pronto soccorso, l'intervento sui tempi delle liste d'attesa, la continuità delle cure e la presa in carico. Proprio per questo di comune accordo si sono lasciati Riccardi e Presidenti degli Ordini con l'appuntamento ad un nuovo incontro attraverso il quale poi si andrà a sviluppare dei punti specifici proprio sulle questioni aperte. Lasciamo la politica, la sanità e apriamo la nostra pagina di cronaca perché siamo pronti per continuare con lo sport. Tra pochissimo ci reccheremo con il nostro Jacopo Romeo sui campi del Bruseschi per un aggiornamento sulla preparazione dei ragazzi di Mister Tudor in vista dell'appuntamento contro il Parma di domenica. Anticipiamo sul fronte sportivo invece l'esito della giornata di ieri vissuta al trofeo Rocco con il nostro Lorenzo Paussa. Stavolta il dischetto è benevolo all'Udinese. Dopo la sconfitta di rigore contro la Lazio nella gara di esordio del trofeo Rocco i bianconeri under 17 superano la rappresentativa del Friuli Venezia Giulia sbloccando il risultato dagli 11 metri. Il penalty procurato e trasformato da Bascia apre poi la strada alla formazione di Mister Jattic nel finale di gara rotonda il punteggio con un gol di Ruffini. Oggi i ragazzi in primo tempo erano ancora in difficoltà o comunque la rappresentativa si era difesa bene, si era comportata bene e secondo tempo credo che sono emersi i valori e abbiamo fatto discretamente bene. È chiaro che adesso dobbiamo recuperare un po' di forza perché abbiamo già fatto due partite e anche oggi speravo di poter ottenere un risultato nel primo tempo qualcosa che purtroppo non è stata anche per la bravura della rappresentativa e un po' per demerito nostro e quindi adesso ce la giochiamo. Nel complesso abbiamo fatto 50 minuti sicuramente molto positivi dopodiché il calcio insegna che funziona in questo modo abbiamo commesso due ingenuità anche piuttosto evidenti e gravi e questa ingenuità con squadre di questo calibro ci porta sicuramente a subire dei gol. Giochi apertissimi per il passaggio del turno tutto si deciderà questa sera a Cividale con la sfida ai sudamericani del Toluca. Giochiamo in casa mia perché io sono di Cividale e l'anno scorso appunto giocavo alla Foro Miuli sono nuovo qua all'Udinese. È un onore giocare di nuovo nel mio campo e vorrei dimostrare a tutti i miei compagni e amici cosa so fare, cosa sono diventato in questi giorni a ritiro qui credo di essere migliorato abbastanza e ovviamente il gol. Questo dunque il racconto del nostro Lorenzo Paussa sull'esito della sfida nella seconda giornata del Trofeo Rocco con l'Udinese che ha archiviato dunque la sconfitta iniziale con la Lazio imponendosi per 2-0 sulla rappresentativa del Friuli Venezia Giulia. In attesa di trasferirci alla Dacia Arena con il nostro Jacopo Romeo andiamo a dare un'occhiata alla situazione del traffico in autostrada. No, eccolo qua, è pronto il nostro Jacopo e allora andiamo subito da lui per farci raccontare questa mattinata sui campi del Bruseschi. Bentrovato Jacopo. Buongiorno, buongiorno di nuovo a te Davide e ai nostri telespettatori. Questa speriamo sia una volta buona. Ti dicevo, ti raccontavo di come la mattinata di allenamento dell'Udinese al Bruseschi si sta concludendo proprio in questi secondi con la squadra che è scesa in campo alle ore 10 per il primo dei due allenamenti di giornata. Nella prima parte dell'allenamento la squadra ha lavorato divisa in due tronconi difensori e centrocampisti bassi, centrocampisti d'attacco e difensori lavorando sul possesso palla e su alcune esercitazioni tecnico-tattiche. Contestualmente un'altra parte dei giocatori ha iniziato a lavorare in palestra dopodiché gli altri pari ruolo che inizialmente erano in palestra sono venuti in campo e gli altri ragazzi sono rientrati a completare allenamento nelle strutture interne della Dacia Arena. Prevalentemente si è lavorato su schemi offensivi, possesso palla ed esercizi di finalizzazione. Regolarmente in gruppo anche oggi, come raccontavamo anche da ieri, Seco Fofanà, così come tutti gli altri giocatori, dunque non ci sono problematiche di tipo fisico. Per fortuna nel gruppo di Mister Tudor, l'unico che manca ancora è sempre Ideter Avest. Ma oramai, essendo arrivati a giovedì già all'allenamento del pomeriggio, Davide, è legito aspettarsi un focus tattico ben più ampio. Vedremo anche se la squadra lavorerà a porte chiuse già a partire da questo pomeriggio, come era accaduto la settimana scorsa, in preparazione della sfida contro il Milan. Intanto comunque quello che si può dire è che è un udinese solida, convinta e conscia delle proprie capacità dopo la bella vittoria contro il Milan. Dunque l'obiettivo resta quello di bissare ancora una volta di fronte al proprio pubblico una Dacia Arena che si spera sia sempre calda, anzi sicuramente lo sarà calda e ricca insomma di passione come è successo contro il Milan e con uno stadio così a trascinare, l'ha detto anche ieri gli stessi Samir Rebekao nel corso dell'evento con i tifosi in curva nord, è più facile diciamo così far bene, maturano anche le condizioni migliori per conseguire la seconda vittoria in altre tante partite. A proposito di Samir Rebekao io restituendoti la linea prego la legge di inviare in onda il contributo con l'intervista a Samir perché ieri si sono travestiti diciamo così da dette alla venta d'eccezione lui e Rodrigo Rebekao immersi nell'amore e nella passione dei tifosi ed è stato un buon momento non solo di contatto ma anche per fare un bilancio di questa settimana di lavoro in vista della sfida contro il Parma di domenica alle 20.45. A te. Samir allora è stata una bella settimana perché si è lavorato bene, tutti i carichi gasati alla vittoria contro il Milan però già il mister da lunedì vi aveva messo sotto Torchio per pensare a Parma. Sì abbiamo già lavorato fortissimo da oggi quindi per noi è stata una bella domenica con la vittoria, partire così era quello che volevamo quindi per noi è stato importante in questa vittoria soprattutto giocare in casa con i nostri tifosi ma ora dobbiamo ora dobbiamo pensarci al Parma che sarà una partita difficile però speriamo di ripetere la stessa prestazione che abbiamo fatto contro il Milan o magari di più per avere i tre punti dentro di casa che sarà importantissimo per noi. Tu come tutti gli altri siete concentrati sul Parma però dopo per te arriverà un bel momento perché archiviata la partita speriamo con altri tre punti tu vuoi contribuire innanzitutto per quello poi però partirai per gli Stati Uniti perché giocherai per la prima volta con la nazionale maggiore del Brasile. Sì sono tanto felice con questa opportunità spero di fare bene che non voglio andare solo una volta spero di andare tante o tre volte quindi ma prima devo fare bene qua all'Udinese che così arriverà delle opportunità e spero di fare bene qua all'Udinese per arrivare bene lì in nazionale e dare il meglio lì in nazionale. Prima di salutarci dunque uno sguardo al traffico ancora con i rallentamenti in A4 soprattutto interessato il tratto compreso tra La Tisana e Porto Gruaro e tra Sanstino di Livenza e Cessalto come ci indica il sito Info Viaggiando nel secondo caso a causa di un mezzo impanne proprio tra Cessalto e Sanstino in direzione Trieste il traffico è rallentato nel secondo caso invece per quanto riguarda in entrata alla Tisana a causa di traffico intenso sul tratto della A4 Torino-Trieste questa è la segnalazione. Uno sguardo anche al meteo le previsioni per il proseguo della giornata con l'aggiornamento dall'Osmer Arpa nuvolosità variabile con più sole probabilmente sulla costa dal pomeriggio mentre sui monti localmente potrà prevalere anche cielo nuvoloso nel pomeriggio probabilmente qualche locale rovescio temporale sui monti possibile isolato anche in pianura temperature ancora alte specie la minima sulla costa. Ci fermiamo qui l'informazione ritornerà live a partire dalle 12 a più tardi. Grazie a tutti.